Ciao a tutti, io sono Giulia e bentornati sul canale! Eccoci qua con il nostro consueto appuntamento del giovedì per il video in collaborazione con Fede, il mio vlog di libri, di cui come al solito vi lascio giù nell'info box il profilo Instagram e il canale di YouTube. Oggi cambia l'ennesima volta, cambio di location, cambio di tutto, però dal momento che è sera, la luce è quella che è, questa era un giusto compromesso, mi piaceva come compromesso sia per la luce che per la posizione, eccetera. Comoda! Allora, oggi con la Fede abbiamo pensato, invece di fare il solito tag, che comunque poi insomma diventa noioso, abbiamo detto, visto che mancano due giorni al Natale, perché non condividere la nostra wishlist libresca e non per il Natale 2016? Dici, così per vedere un po' che cosa ci ispira, che cosa ci piacerebbe ricevere, e metti che qualcuno ancora debba prendere qualche pensino a me e a lei, insomma sapete dove andare a parare. Oggi volevo condividere soprattutto la lista desideri libresca, librosa, perché è quella che c'entra di più con il canale, anche perché a dire il vero io non sono una che, per dirvi, uno degli oggetti che era nella mia lista di desideri del Natale erano i tappetini della macchina. Qui nel carrello di Amazon, che li ho messi in salva articoli per dopo, della serie che quando mi arrivano offerte migliori magari premo su acquista, ho come primo libro, in realtà è un graphic novel, novel sì, no, novel, come il mio solito, al primo posto ho un graphic novel che si chiama Diario di una dottoranda, di Tiffany Riviere, voi sapete che come al solito io non riesco a mettere qui in sovraimpressione le immagini, però ovviamente nell'info box trovate tutti i link ai libri tramite la mia affiliazione Amazon. Mi ha incuriosito perché mi piaceva l'idea di vedere le avventure di questa dottoranda, che va a fare appunto, questa ragazza italiana, che va a fare il suo dottorato in Francia, e racconta tramite un graphic novel la sua esperienza. Secondo O, due cose che si assomigliano, sono due atlante, che l'ho visto, uno di questi due l'ho visto nell'ultimo video di Leda, delle pagine di Leda, che le consigliava come regali di Natale, e ho visto l'atlante dei luoghi maledetti e l'atlante dei paesi che non esistono, alla scoperta di 50 nazioni che non hanno confine, sono praticamente degli atlanti un po' alternativi rispetto ai soliti, dai quali studiamo e a cui siamo abituati. Mi piaceva come idea perché sono quelle cose simpatiche, credo che tipo nell'atlante dei paesi che non esistono dovrebbe esserci, tipo, adesso non l'ho mai sfogliato, però mi viene da pensare che ci siano posti come tutti, il mondo di Game of Thrones, il mondo di, boh, del Signore degli Anelli, potrebbe essere, ma... Poi c'è un libro che in realtà vorrei regalare al mio ragazzo, perché penso che lui lo apprezzerebbe più di me, ossia i personaggi più malvagi della storia, di Shelley Klein, Klein? Klein? Qualcuno? Dove racconta praticamente i personaggi più cattivi della storia, quindi c'è Hitler, ci sono vari omicida americani, a mio ragazzo piacciono queste cose, quindi prima o poi glielo prenderò. Poi c'è un libro che si chiama Creative Littering and Behind, behind? Sì? Di Gabri-Joy Kingkendall, sono senza occhiali, quindi sono molto orba, perché su Instagram soprattutto vedo sempre un sacco di immagini su la calligrafia, la grafia, tutti questi caratteristri scritti a mano, e mi piacerebbe prima o poi iniziare anche a me, è solo che è un periodo un po' così, quindi non sapendo da dove iniziare, mi piacerebbe avere un libro guida. Poi, poi, qualcosa che non c'entra è sempre in tema libroso, ma non solo libri, ho tre Funko Pop che mi piacerebbe ricevere, tutti in tema Harry Potter. Uno che è quella della professoressa McGonagall, della McGranit, che è uno degli ultimi che è uscito, uno che è il Funko Pop di Hagrid, che è quello gigante, e ovviamente essendo gigante costa anche di più di quelli piccoli, che già non costano poco. E il terzo è il Funko Pop di Alus Silente, perché, non so se vi ricordate, se lo trovo ve lo lascio qui nelle i, il video in cui vi faccio vedere che avevo acquistato il Funko Pop di Silente, quello vestito di Lilla, con la barba fermata qua dalla catenina argentata. Ecco, questo è quello versione fucsia, e mi piaceva che praticamente sarebbe quello del primo film. Un altro graphic novel, o meglio, più che un graphic novel è una raccolta di strisce, di Sarah Anderson, che è Crescere che palle. Io seguo l'autrice, l'artista, insomma, nel suo profilo, mi pare, Facebook, e mi piacciono sempre, mi fanno sempre morire da ridere le sue vignette, e le sue strisce che posta, e mi piacerebbe avere una raccolta, che le raccoglie tutte, però sinceramente, 11 euro di una raccolta di strisce, che poi l'ho visto dal vivo, è un libretto piccolo così, insomma, non lo so, l'ho sempre procrastinato per questo motivo. Poi ho un libro, la cui presenza nella mia wishlist, è da attribuire a Ruben del piccolo Ruby, ossia la scuola della carne di Yuko Mishima, Mishima, perché lui ne ha parlato talmente tanto bene di questa autrice, e di questo libro in particolare, che mi ha incuriosito tantissimo, fra l'altro è una delle edizioni, quelli dei Tascabili Feltrinelli, che quindi non costa così tanto, viene 7,65 euro, perché no? Poi ho A Court of Mist and Fury, di Sarah J. Maas, perché quest'estate mi ero presa A Court of Thorns and Roses, che non ho ancora letto, però, insomma, quando leggerò quello, prima o poi vorrò avere anche A Court of Mist and Fury. Poi vado a ripescare un'altra lista, che si chiama Care Amiche Babbe Natale, ossia la lista che io smercio, in giro alle mie amiche, quando mi dicono, quando non so cosa prenderli, e ci penso io, non preoccuparti, allora la smisto. In particolare, due libri, che sono L'Ombra e Fulsham, che sono il terzo e il secondo della trilogia dei segreti di E-Pause, perché avendo preso il primo, se avete visto nel book haul del complano, di cui vi lascio sempre il link, mi piacerebbe ovviamente avere tutta la trilogia, più che altro perché quando inizio una trilogia, anche se poi non mi conquisto, insomma, la voglio comunque avere tutta insieme. Avere The Siren di Kira Kass, perché io avevo letto tutta la saga di The Selection, e non mi era pesato per niente leggerlo, non grido al capolavoro, ma non la denigro neanche, nel senso che è molto leggera come lettura estiva, sotto l'ombrellone, o comunque quando non hai tanto tempo da dedicare. Poi avrei anche, Voglio una vita a forma di me, di Julie Murphy, di Julie Murphy, perché l'ho visto recensito, e che l'hanno letto alcune booktuber qua, tra cui Sissi Tube, La Svamps, e mi incuriosiva leggendo un po' la trama. Poi avrei, Bats of the Republic, di Zachary Thomas Dodson, visto, famosissimo libro, visto, non mi ricordo se ne ho wish list, o se lei l'ha comprato effettivamente, in un video di Joe, di Joe Reeds, dicendo che era molto simile a Illumine, come struttura, cioè non romanzato, ma tramite file, e tutte queste cose qui, quindi mi piacerebbe, a me piacciono quelli con gli inserti. Poi ho di Sarah Rush, Ice Like Fire, che è il secondo, e credo ultimo, perché dovrebbe essere una duologia, di Shadow and Bone. Io avevo Shadow and Bone, il primo, così. Poi, ultimo libro, perché poi non... Ah no, dai, ultimi due libri, tre, via, vabbè. Un altro libro che ho, è Passenger, di Alexandra Bracken, perché, mi piace tantissimo la copertina, mi piace tantissimo il tema, dei viaggi nel tempo, lo sto procrastinando, e tirando avanti da tanto, perché in realtà, mi piacerebbe in copertina flessibile, quindi mica per forza, quella rigida, non costa neanche tantissimo, ma, temo per il livello di inglese. Ho due graphic novel, una di Zero Calcare, che è l'elenco telefonico degli accolli, e uno che è di Giacomo Bevilacqua, il suono del mondo a memoria, perché dopo averlo visto, recensito, sfogliato, ovunque, tutti che ne hanno parlato, mi incurigisce tantissimo, per dove è ambientato, per la storia che tratta, e per i disegni che non sono davvero molto belli. Zero Calcare, che ve lo dico a fare. Ecco. E poi, infine, vorrei, Cabaret Biarritz, di José... Valles, se è spagnolo. questo libro, non mi ricordo bene di cosa tratti, e non so neanche se sarebbe il tipo di libro che potrebbe piacermi, però, mi era arrivata una specie di newsletter, da La Feltrinelli, o non mi ricordo da chi, che parlava di questo libro, e mi aveva incuriosito tantissimo, da allora è sempre rimasto nella mia wishlist. Il problema è che all'inizio costava un sacco di soldi, pur essendo in copertina flessibile, e quindi non l'ho mai preso per quel motivo là. Poi col tempo, vabbè, mi ha scemato l'interesse di questo libro, quindi è lì, è fermo, prima o poi lo prenderò, e vedremo cosa ne sarà. Ultimo, ma non ultimo libro, non è proprio un libro, ma è una sorta di manuale, ossia ho visto un video ormai sul canale di Nada Gemini, mi pare che si chiami così, se non ti chiami così ti prego scusami, perché vado a memoria, lui aveva postato, è un canale che, tra parentesi, intanto vi consiglio di andare a vedere se volete, perché a me piace un sacco, lui aveva fatto dei video, ha fatto dei video in tema eripoteriano, nel senso che consigliava in questi tre video, regali per Natale a tema eripoteriano, per i pottered come me, e uno di questi, anche se non era proprio un tema potter potter, però c'entrava molto, perché è una sorta di libro, di guida, di saggio, non so, riguardante le bacchette magiche, che si chiama Wandlore, wand da bacchetta lore, vabbè, Wandlore, the heart of crafting the ultimate magic tool, quindi parla di tutte, è proprio una guida a come vengono create le bacchette, i materiali che si usano, come vengono impregnate, diciamo, di potere, come scelgono il mago, e tutto quanto, e così, sapete, sono quelle cose carine ad ottenere, però costa, intanto è solo in inglese, e temo per il livello di inglese che ha, e in più costa un sacco di soldi, arca miseria, cioè in copertina flessibile costa 19,75 euro, in copertina flessibile, e quindi, vabbè, diciamo che rimarrà, ecco, questi diciamo erano i libri in pole position, nei primi, cosa ve ne ho detto, i 20, i 30, non mi ricordo più, della mia wishlist amazoniana, io ho wishlist solo qua, grazie al cielo, perché se cominciassi a fare wishlist anche da altre parti, sarebbe finito, la fine, la fine, la fine, in realtà, ho un po' imbrogliato, perché la mia wishlist di Amazon, conta ben, 140 libri, più 15 della lista delle amiche di Care Babbe Natale, più altri 5 in sospeso nel carrello, quindi sono in tutto 160 libri, capite che se ve li elencavo tutti i 160, stavamo qua, neanche fino alla Befana, ma proprio fino a Pasqua, allora siccome vorrei fare un video un po' più breve, ecco, questa era la mia wishlist amazoniana, con questo io vi saluto, vi mando un grosso bacione, vi auguro buone feste, buon Natale, e vi mando un abbraccio forte a tutti, passatelo in famiglia, vogliatevi bene, saluto anche la Fede, faccio gli auguroni a lei di persona, visto che la nostra collaborazione continua ad andare avanti, nonostante le sue mille peripezie, fra parenti di Fede, ti mando un bacione, ti faccio davvero un complimentone enormi per la laurea, ho visto le foto, sei stata bravissima, perché lei ha discusso pure la tesi questa settimana, io sono così col lavoro, però non importa, noi teniamo botta, quindi ci vediamo giovedì prossimo, per un altro appuntamento insieme, giù nell'info box come al solito, trovate i link ai miei social, il canale e il profilo Instagram di Fede, e tutti i link ai libri, per acquistare da Amazon, tramite il mio link di affiliato, ci vediamo nel prossimo video, e buona serata a tutti, ciao!